Prima stazione, Maria accoglie nella fede la profezia di Salomone e Simeone. Ti lo diamo Cristo e ti benediciamo. Ti lo diamo e ti benediciamo. Dal Vangelo secondo Luca, Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risoluzione dei monti di Israele. Per te, segno di contraddizione perché siano sperati i pensieri di molti cuori, che anche a te una spada trabiggerà l'anima. Insieme, o Dio, speranza dei nuovi, e dal Vesco di Sì, amore di Sì, amore di Sì, amore di Sì, amore di Sì. Sì, amore di Sì, amore di Sì, amore di Sì. Sì, amore di Sì, amore di Sì, amore di Sì.